Elisa, un esordio in Serie A1 con una sconfitta ma tutto sommato è andata anche bene? Sì, è andata molto bene anche perché è stata una partita comunque combattuta. Abbiamo giocato contro una squadra molto più esperta di noi ma siamo riusciti a darle del filo da torcere fino all'ultimo minuto e ci siamo un attimo perse verso la fine però comunque possiamo dire tutte che è stata comunque una bella gara. Cos'è che non è funzionato? Perché avete perso? Solamente per l'inesperienza? Beh diciamo che quella ha giocato un ruolo molto importante perché comunque abbiamo anche rivisto le partite nei giorni successivi la sconfitta e abbiamo notato che comunque negli ultimi dieci minuti magari ci siamo un po' perse anche perché proprio le nostre avversarie hanno giocato quella che era la loro esperienza e abbiamo fatto degli errori che comunque dobbiamo imparare ad evitare ma che comunque stiamo anche imparando a gestire e a fare meno. Senti, la tua emozione al fischio di inizio? Raccontaci un attimo. Beh è stata senza dubbio una grande emozione, era la mia prima partita in Serie A1 e anche il pubblico ha comunque ci aiutato nella gara e ha fatto un tifo fantastico e anche quello ha comunque aiutato e ha emozionato molto. Adesso si pensa già a sabato, avrete una gran voglia di rivincita e già mettete in campo tanto penso che qualcosa in più metterete sabato per portare a casa speriamo una vittoria. Sì, sabato stiamo preparando la partita, adesso ci impegneremo al massimo come anche abbiamo fatto la settimana scorsa, speriamo vada bene.